Essere mamma è sempre stato il desiderio più grande della mia vita fin da quando andavo all'asilo ed oggi, che ho il privilegio di essere mamma per ben due volte, è la nostra festa e ci tenevo a fare gli auguri anche a tutte voi mamme. Tanti auguri, siamo fortunate. Lia, ma fatti vedere che porti, no? Viste faccia? Pi, fa, fu, sento torri e tira, ragazzi. Guardi, cusini! Ma dove vai, nano? No, 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 cusini! Andiamo al galoppo di lilla, andiamo al galoppo di lilla, io ho il galoppo di lilla, andiamo! Buongiorno a tutti. Allora, mi sono messa subito in cucina a fare le fragoline che ci andiamo tutti matti e poi ci metto un po' di zucchero, un po' di limone, oggi senza panna purtroppo. Poi per cena preparo questa pizza fredda che piace tantissimo a Scarli, ma anche a tutti noi. Allora, ieri avevo messo a lievitare l'impasto della pizza, il classico acqua, lievito, farina e un pizzico di sale e oggi, che è pronta, bella lievitata, la metto sopra a questo soletto con carta forno e ci metto, come avete visto, un filo d'olio, perché comunque deve venire tipo una focaccia e ci sta bene, quindi un filo d'olio. Poi sopra ho messo il sale grosso e un altro filo d'olio, come vedete. La metto in forno a 180 gradi per circa una mezz'oretta, 40 minuti. Ecco come viene. Quando si è freddata, la vado a tagliare con il coltello del pane. La divido bene a metà, stando attenta di non romperla. Ecco qua, pronta. E poi la andiamo a riempire. Allora, maionese. Almeno tutti gli ingredienti dentro si legheranno meglio e verrà super golosa. Maionese anche sopra. Noi usiamo la Enz, ci piace tanto, ci sa la più buona. Poi ci mettiamo il prosciutto cotto. Ovviamente potete farla ripiena anche in altri modi. Una volta l'ho fatta anche con rucola e salmone, oppure con il crudo e la rucola. Oggi ci vado a mettere il prosciutto cotto. Un bel po' perché abbondare è sempre meglio che deficere. In modo che si senta bene poi quando la mordi. Un bello strato. E poi il nostro amato formaggio senza lattosio della Galbanino. Lo vado a tagliare a fettine sottili. E piano piano riempiamo la nostra pizza fredda. Se potete metterci la mozzarella sicuramente ci starebbe molto più bene. In passato ce la mettevo e essendo più umida ci stava ancora più bene. Però così almeno la può mangiare anche Manuel. E quindi ci metto questo adesso, il formaggio senza lattosio. Oppure quando la trovo in offerta anche la mozzarella senza lattosio. Anche se non è uguale all'altra, però vabbè. Poi prendiamo i pomodori, li laviamo, li facciamo a fettine sottili. E li mettiamo anche questi sopra al formaggio. Quando li abbiamo disposti bene in modo che tutta la pizza sia piena. Ci andiamo a mettere un pizzico di sale. Sopra a ogni pezzetto di pomodoro. Un po' di sale. E poi un filo d'olio. Sempre sopra i pomodori. Qualche gocciolina. E poi chiudiamo la nostra pizza. E qualche ora va bene anche fuori frigo. Se dovete conservarla invece in frigorifero. Eccola qua. Sono Thanos. Sono qui per trovare Liam. Però non lo so. Quindi domani arrivo. Ah, meno male. Sono Thanos. Sono Thanos. Arriva, arriva, arriva. Sono Thanos. Sono Thanos. La pizza per stasera è pronta. Invece per pranzo oggi faccio una nuova ricetta che mi ha consigliato la cassiera del Conad. Allora, mi ha detto la pasta alla crema di peperoni. Quindi ho cotto i peperoni con olio, aglio, sale. Un peperone giallo e uno rosso. E poi quando sono cotti, li passo nel contenitore del mixer e li frullo. Li frulliamo bene bene in modo che diventino proprio una cremina tutta liscia. Poi, allora, la cassiera mi ha detto che volendoci si può aggiungere o la panna da cucina, oppure una salsiccia cotta in precedenza e poi mischiata alla crema di peperoni. Però io oggi sinceramente preferisco farli così al naturale. Vedete, ecco la cremina pronta. E ho messo a bollire l'acqua. Ci voglio cuocere questa pasta, i tonnarelli di Giovanni Rana. E poi ci metterò solo una spruzzata di parmigiano. Ecco, la pasta è cotta. La sto ripassando qui in padella. Poi ci metto il parmigiano in piatto. E vediamo come sarà. Dopo averla mangiata vi posso dire che era buona. Oggi siamo venuti qui alla CIA, che sarebbe un negozio della nostra città, che vende tessile, vende intimo, vende anche costumi, abbigliamento, ma soprattutto le cose tipo lenzuoli, coperte, asciugamani, accappatoi. Allora, siamo stati tutti entusiasti lì alla CIA, che c'era scritto sconti fino all'80%. Pensavo di trovare, che ne so, promozioni sulle lenzuola, su gli accappatoi per i bimbi, mi servivano, oppure un copriletto. No, dico un coprimaterasso, scusate. Siamo entrati, praticamente stava tutto al 30%, ma aveva già avvertito la mia amica Isabella, però pensavo magari qualcosa di trovare. Invece stava praticamente tutto al 30%. All'80% non ho visto manco una cosa, e qualcosa stava un po' più scontato, ma era tutta roba che non mi serviva. Quindi alla fine siamo rimasti molto delusi, abbiamo comprato solo tre magliette di intimo per Manuel e tre mutante per Manuel. Abbiamo speso 28 euro, che alla fine non è male per tre magliette e tre mutante, insomma è conveniente. Però sono rimasta delusa, perché le cose che mi servivano erano scontate al 30%, tutte quante, e quindi erano ancora troppo care. E quindi niente. Sai che quando ero giovane anch'io la sapevo fa? Perché gli attuati sopra la mia. Farò la sua flaccio netto da parte, perché gli attuati? Uè! Uè! Miau! Miau! Sono cattolante! Ahia! Oh! Ahia! Prendi i cagnolini che non scioglta la fronte! Ok! Oggi noi! Brocconetto mi! Mamma mia che fatica! Allora ci risiamo due giorni fa ci hanno dato di nuovo un'altra notizia brutta per quanto riguarda il lavoro di Manuel Non so se vi ricordate tutta la tiridera cioè a Natale dovevano chiudere poi hanno allungato il contratto di un anno Poi tempo fa hanno riscioperato perché non mi ricordo che altro problema c'era E adesso di punto in bianco hanno deciso proprio di chiudere Quindi allora gli hanno dato tempo No aspetta Hanno deciso di chiudere e il proprietario dell'azienda ha tempo 70 giorni proprio per chiudere l'azienda Intanto hanno cessato di lavorare cioè gli operai non tagliano più ma stanno tutti in verie Da adesso da un paio di giorni E poi il capo ha questi 70 giorni per chiudere la fabbrica Adesso come al solito siamo in balia degli eventi Stavolta sembra quella definitiva quindi in teoria non ci dovrebbero essere altri ripensamenti Adesso a questo punto vediamo se qualcuno finalmente riuscirà a comprare questa azienda Se chiuderà proprio definitivamente Se gli operai saranno assorbiti da qualche altra parte oppure ce la prenderemo in saccoccia Quindi siamo un po' così in attesa Intanto sono tutti in verie Poi dopo in teoria dovrebbero avere o la cassa integrazione prima e la disoccupazione poi Oppure direttamente la disoccupazione insomma vedremo Manuel ancora era in buono malattia comunque fino al 21 perché dall'ospedale gli hanno dato direttamente questi giorni Quindi fino al 21 è in malattia Poi dopo in verie fino a data da destinarsi diciamo Incrociamo le dita Speriamo che siano finite se brutte notizie almeno per quanto riguarda il lavoro di Manuel Speriamo che si risolverà tutto per il meglio Ciao Ciao